La spinta alla riuniti sulla strada della crescita arriva dal piano delle assunzioni deliberato dalla Regione. Medici, infermieri e operatori soci sanitari pronti a sbarcare nell'azienda di Viale Pinto. Il DG Antonio Pedota ha indicato le priorità. Tra infermieri e OSS troveranno in piego 235 unità. In arrivo direttori medici e tecnici sanitari di radiologia. La nuova forza alla riuniti, attesa da anni, consentirà l'erogazione di più servizi. È un'azienda che sta crescendo, quindi assumeremo un grano salis. Allo Stato siamo autorizzati in relazione ad un 30% che era stato bloccato un paio di anni fa dalla Regione. So che in dirittura arriva una delibera di giunta che dovrebbe ampliare ancora di più queste possibilità assunzionali. Ma, ripeto, dobbiamo sempre trovare un equilibrio adeguato tra costi e ricavi. Se l'immissione in servizio di personale, come ho detto anche nel collegio di direzione con i direttori di dipartimento, se l'immissione in servizio di personale significa maggiori servizi, essenzialmente questo, significa anche maggiori ricavi per l'azienda. Se riusciamo a crescere col personale, con i costi del personale, ma contemporaneamente a crescere con i ricavi, dando maggiori servizi all'utenza, abbiamo fatto bingo. Più servizi e più efficienza nei vari comparti dell'azienda che presto avrà, come annunciato da Emiliano, la cardiochirurgia. I tempi sono ancora lunghi, ma è una battaglia che può ritenersi vinta. Con la Regione avevamo una cosa in sospeso importante, che era quella della cardiochirurgia. Il Presidente ha assegnato la cardiochirurgia a Foggia, ora che sia stata assegnata probabilmente, perché atti formali non ce ne sono ancora, anche a Casa Sollievo, è una cosa utile, importante per il cittadino. A noi interessava questo. Adesso stiamo verificando, io ho avuto una riunione in Regione due giorni fa con il Direttore Generale Corgoni, che ringrazio anche tramite voi per l'attenzione che sta dimostrando, in cui abbiamo chiesto alcune risorse per investimenti. Dobbiamo attrezzare due sale operatorie per la cardiochirurgia e la chirurgia vascolare e attrezzare sale operatorie, nonché rianimazioni post-operatorie, soprattutto per la cardiochirurgia. È qualcosa che costa. Si tratta di un investimento iniziale abbastanza importante, non tantissimo, stiamo parlando di circa 5 milioni a base d'asta, poi i di bassi, a tezzettroi, nonché riapposta. Allora, ho avuto una riunione. Nonché riapposta. Nonché riapposta. No, c'è la�emотивazione ma è assolutamente più importante. Nonché riapposta.